Molto spesso... Molto spesso le persone oltrepassano lo spazio temporale e si introducono casualmente nell'intescambio delle nostre emozioni portando a voi i ricordi, portando a voi le immagini, portando a voi le sensazioni e a me... Le soldi! Ciao! Salvo la fine del prosciutto del braga Vorrei però che questa mia canzone la cantassi insieme a me questa canzone che parla di anni migliori Arunà, faccia il carrozzone! Questa canzone che sia l'auspicio per anni migliori Il carrozzone, Arunà, il carrozzone! Questa canzone dicevo che ci vede i protagonisti Arunà, il carrozzone! Ma che schiacciasse! Arunà, il carrozzone! Oh! Ve lo buttate? Sì! Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo Bene. Tai notburo da qui ti sembra soltanto una botola semplino Tutti voglio lui, ne voglio taskerci E niente! Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno sempre tutti insieme. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Spingi di forte che gli essi sono per il primo, i migliori anni della nostra vita. Grazie! 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 Grazie. Grazie.